Allora, allora, dati anagrafici, cognome? La Papera. La Papera? La Papera. Nome? Michele. Michele. Medico, curante io. Telefono? Huawei. Telefono? Huawei. Huawei. Il tuo lo si chiama? Huawei. Huawei, sembra essere un'azienda di bari. Va bene, allora, dobbiamo capire, diciamo, questo malessere. Sì, questa cosa di malessere. Qua c'ho la scheda che mi hanno... Anamnes? 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 Anamnes, si dice. La medicina non tanto la capisco. Fanno cose più difficili. Allora, adesso, diciamo, sicuramente risolveremo il problema, perché, ecco, gente come lei che vive in questo stato, diciamo, di difficoltà oggettiva odierna. Lei fuma, no? No, 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 non fuma, no. Mai, mai fumato in Italia. Come non fuma? Ah, forse fuma da fastidio. Ma è sicuro? Sì, 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 mai toccato lontano. Sì, sì, sì. No, no, no. Fuma, dai, diciamo che... Mai, 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 mai. Non fuma, eh. Allora, se non funziona, non fuma. No. Non è che si può insistere su questo, non fuma. E, diciamo, a livello di stress, ecco, il lavoro stressante che porta poi ad avere questo... No, no, che sono pensionato. Chi? Io. Pensionato? Sì, sì, non lo facciamo io. Ah, no, quindi tranquillo, diciamo, pensionato. Dormi poco. Dormo tranquillo. Dormi tranquillo. Dormi tranquillo. Allora, il lavoro di dormire è tranquillo, è pensionato, quindi non faccio... Però il fumo... No, no, proprio... Abbiamo detto no. Proprio la pozza, niente. Proprio no. Va bene. E quindi beve, ecco, beh. Vedi, bisogna stare attenti quando uno beve l'alcol, quella roba... Sì, sto attenti. Non bevo proprio perché sono la steme della vita. Non ho mai toccato, manco così, niente. Quindi non metto, diciamo, beve, no. No, no. Beve, no. Beve, no. L'acqua, sì, tutto il resto, no. Beve, no. Fumo, no. Stress, no. No. E... I dolci. Quelli sono i dolci che ti fregano. I dolci, i dolci... Non li mangi i dolci. Cangella, che i dolci... Non mi piacciono i dolci. Quindi non mangi neanche i dolci. Da bambino non mi piacevano i dolci. Tu non mangi i dolci. No, no, no. Quindi i dolci no. Non mi piacciono. Sì, sì. Il metodo no ai dolci, diciamo. No, non dolci. Non beve, non fuma... Sì, che... Non fuma, non beve, non dorme assai... Stress, no. E... Quindi i dolci no. No, no, no. Però sta una cosa che... La cosa che ti piace di più qual è? Le mele. Le mele? Non mangiare più mele. Non mangiare più mele. Ehi, per carità, eh. Te lo sto dicendo qui da professionista, no? Mangiare più mele. Quelle sono. E chi le sono? Le mele. Non mi manchi i dolci le mele. Non si fissa una mela al giorno. No, no, no. Mele. Mai. Più. Va, non abbiamo risolto questo problema oggi. Non mangiare più mele. Non mangiare più mele. Non mangiare più mele. E poi mi metto qui. Appena, appena. Non mangiare più mele, eh. Ehi! Vuoi partire? Vuoi partire? No, mo, che la mele. Vuoi partire? A mele. 嗎? Più! Vai qui la pall��들 quasi. Tu, non tu, che vuoi partire! No mangiare più mele! Buono... Oppure? Già? Grazie a tutti.